L'Università di Camerino ha ospitato nei giorni scorsi l'appuntamento con Marche in Mostra, lo spettacolo targato pick time per promuovere la nostra regione realizzato in collaborazione con il Comune di Camerino. Condotto da Alvin Crescini, ideatore e produttore del format, in collaborazione con Luca Ciarpella, lo spettacolo ha visto alternarsi sul palco dell'auditorio un benedetto tredicesimo personaggi quale lo chef pluristellato Mauro Liassi, che ha raccontato al pubblico e ai giovani studenti presenti provenienti dagli istituti alberghieri della regione il suo percorso professionale e di vita, riservando preziosi consigli ai futuri chef o addetti ai lavori. Presenti anche il rettore Unicam, Claudio Pettinari, e i docenti Gianni Sagrantini e Valeria Pozzonetti, che hanno illustrato le eccellenze dell'Ateneo nel settore della nutrizione e dell'agroalimentari. Hanno portato una ventata di allegria e comicità anche i ragazzi del doppiatore marchigiano, che hanno divertito il pubblico con i loro sketch e video.